ma come funziona questa tombra acquaienza che ci deve mettere questi qua li deve mettere dentro questi qua ci sono i coperti di questo appunto per quello diciamo la pasta ma quella lei l'ha comprata questa tombra sì io questa acqua cinque cosa i bicchieri miele un cazzo là un po' oddio è lì no 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 noi siamo entrati a sentire questo cazzo quando stiamo in venti qua perché sta a cacciare che siamo in venti siete pronti per perdere? già 30 euro ma tu non hai messo i soldi però pochi 20 euro tu non hai messo i soldi come se hai soldi imbroglioni me ne avete a mettere 50 ma io ci ho messo 10 euro ma perché tu hai messo un bolone stai vantaggiato 50 non rompete l'anima 20 allora 50 o 20 non rompiamo 50 e poi 20 no dai 50 20 non mi fare spasare 20 e 50 no ho detto 50 e poi 20 non 20 e 50 che fa 70 che cazzo boh vi è giusto eh 6 8 io dico sempre giusto 6 8 biscotto biscotto 13 mica qua sono tombola pesante sono cazzi vostro me lo metto tutto in tasca io difficile poi imbroglio 47 dai cazzo 80 cazzo 80 80 80 questo ruba ma stai attesa lo so è un imbroglio imbroglio poi 62 62 eccolo 62 53 ambo è veramente da terno 74 sì ma qua è lunga la via molto lunga mua bua 52 52 quello è un mascarpone che devasto 26 5 48 aspetta un attimo vai piano aspetta puro piano devo andare minchia il tecnologico di cartelle qua vai ma io non ho preso il tuo no che mi dai fastidio eh vabbè devo fare la ripresa eppi vado 37 vado 6 30 7 58 58 aspetta un attimo se sei reno un secondo 58 ti è caduto la rotta porco dio sono un po' fracidi no ma qua la tombola viete 58 69 che cos'è? come la gira e come la ruota 62 qui in 10 qui bello e qua non abbiamo più 67 67 67 67 84 22 ma no che mi da fastidio che mi da fastidio per un po' taratà taratà 2 41 dai 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 è pienissimo 89 quasi la paura 89 ci siete? 32 dobbola no non è bello non ce li dobbola se meri christmas devo controllare meri 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 christmas tombola davetti zucche prima controllare il cammello durello cammello tombola di secchiello sembra una cantina ciao una cantina spugnata però voglio per la madonna controlliamo sono i miei che beveva così mio padre contro l'ha beveva così però beveva tutto il giorno allora momento di aplomb forza allora cartella numero 18 della super tombola di 20 euro andiamo ai numeri sulla scheda numero 6 tabellone mi conferma tombolone mi conferma confermato numero 6 confermato 19 confermato 11 confermato 23 confermato 25 confermato 32 confermato 37 dico io se è confermato confermato 44 44 44 41 51 confermato con riserva tira su le mani 58 58 58 con tre no 58 non c'è 58 58 c'è 65 65 65 non c'è ma ce la facciamo stare 71 71 71 ci sta 78 78 78 ci sta bello 85 85 85 85 non ci manca come vedi 89 89 89 81 69 91 62 82 33 85 99 92 33 34 81 Chronos 82 49 Che bello, che bello, che bello, hai detto 20 euro, 20 euro, wow, un'altra zappa.